le avventure di sherlock holmes capitolo 1 per sherlock holmes essa fu sempre la donna e ben dirado egli la nominava diversamente agli occhi suoi essa eclissava dominava tutto il suo sesso non già che avesse provato per irene adler alcun sentimento d'amore tutte le emozioni questa particolarmente erano estranee al suo animo freddo e compassato ma sorprendentemente ponderato holmes era una specie di macchina di meraviglioso congegno fatta per ragionare e per osservar tutto ma non saprei figurarmelo sotto le spoglie di un innamorato ostentava perfino per le cose appassionanti un profondo sdegno e non le considerava che secondo il punto di vista delle sue osservazioni trovando molto comodo il servirsene per svelare i motivi delle umane azioni ma quanto al permettere a distrazioni di questa specie di disorganizzare le sottili sue ricerche era per lui cosa inammissibile in un temperamento quale il suo nulla avrebbe prodotto maggior turbamento quanto una forte emozione di questo genere sarebbe stata come una corda spezzata in uno di quei suoi strumenti sensibili e però non esisteva per lui che una donna sola e questa donna era defunta irene adler di dubbio a fama dopo il mio matrimonio avevo perduto di vista il mio vecchio amico sherlock holmes egli aveva conservato in baker street nel centro di londra l'appartamentino angerson che per tanto tempo vi avevamo condiviso e vi rimaneva talvolta delle settimane intere senza uscirne indi di repente scompariva e qualche giorno dopo la sua partenza i giornali annunciavano che egli aveva trovato la soluzione di un nuovo avvenimento misterioso che aveva messo in evoluzione i più sottili agenti della questura d'inghilterra una sera era credo il 20 marzo 1888 io passava ritornando a casa dinanzi l'abitazione di holmes le sue finestre erano brillantemente illuminate alzando il capo vidi dietro i cortinaggi l'ombra dell'amico mio egli camminava a capocurvo con le mani dietro il dorso evidentemente si era lanciato ancora nella decifrazione di qualche nuovo problema e tosto mi assalse il desiderio di rivederlo come sempre mi accolse amabilmente senza entusiasmo però il carattere suo concentrato gli interdiceva ogni effusione mi offrì uno di quei zigari verdi che sapeva mi piacevano e mi versò un bicchierino di cognac poi prese posto vicino al caminetto incrociò le gambe e guardandomi curiosamente caro mio disse davvero il matrimonio vi conferisce ingrassate a vista d'occhio perché non mi comunicaste le vostre belleità matrimoniali come mai potete sapere che io presi moglie lo indovino mio caro watson come indovino che siete uscito in questi ultimi giorni con un pessimo tempo e come pure indovino che avete una domestica di una grande negligenza oh questo è troppo esclamai sì è vero fui sorpreso sabato da un temporale ma mutai d'abiti in quanto a mary jane la mia cameriera sventuratamente è proprio vero è di una trascuratezza fenomenale ma voi mi direte come è cosa molto semplice riprese holmes addossandosi al caminetto è il vostro stivale sinistro che tutto mi rivelò esaminatelo ha nelle suole sei tagliuzzi paralleli e voi non li avete neppure osservati quei segni furono fatti dalla domestica che negligentemente levò con un coltello il fango disseccato aderente alla suola e da ciò la mia duplice deduzione che siete stato esposto alla pioggia e che la vostra serve negligente e credete mi sarebbe forse difficile se non vi conoscessi il capire alla prima occhiata quale fosse la vostra professione emanate un odore di odo formo l'indice della vostra mano destra si è macchiato di nitrato di argento e una maccatura sul vostro cappello mi rivela che vi introducete il vostro stetoscopio come a tali indizi non riconoscere in voi un figlio di esculapio accese una sigaretta e proseguì voi vedete come un altro ciò che vi circonda ma non lo osservate tutto sta in questo voi certo avete contemplato più di mille volte la scala che conduce a questa stanza vostra un tempo scommettiamo che non sapreste indicarmi il numero dei suoi gradini difatti però voi li avete veduti quei gradini io ho osservato vi sono 17 gradini a proposito poiché sembrate seguire con piacere le mie piccole ricerche e che in due o tre casi già voleste servirmi da confidente come nella tragedia classica forse questo vi interesserà e mi porse una lettera la carta era alquanto consistente leggermente colorita in grosa la ricevetti questa sera dalla posta soggiunse prendete leggetela la lettera non portava né data né indirizzo non era firmata questa sera alle 8 meno un quarto voi riceverete la visita di una persona che desidera consultarvi sopra un soggetto della più alta importanza i servigi da voi resi recentemente a una famiglia regnante di europa dimostrano che siete capaci di adempiere le missioni più delicate una simile missione io tengo ad affidarvi adunque vogliate trovarvi in casa vostra questa sera allora sunnominata e non offendetevi se il vostro visitatore si presenterà mascherato oh si tratta di un grande mistero esclamai che può mai significare tale missione non potrei ancora nulla dedurre sarebbe pazzia il mio pronosticare da questa semplice lettera attendiamo allorché saremo informati erigeremo le nostre batterie e voi che concludete da quest'epistola di nuovo esaminai attentamente la scrittura e la carta l'individuo che scrisse ciò dissi volendo imitare il modo di procedere del mio amico l'individuo che qui scrisse è evidentemente ricco e questa è una carta bellissima ma guardate come la sua composizione è bizzarra bizzarra di fatti è la vera parola interruppe holmes però non è carta inglese guardatela presso la luce avendola avvicinata alla lucerna vi lessi impressi a filigrana queste lettere enigmatiche p g t e gr che ne concludete mi disse il mio camerata e questo è il nome senza dubbio del fabbricante forse pure in monogramma no il g seguito dal t è l'abbreviazione della parola tedesca gesellschaft vale a dire compagnia qualche cosa come la nostra abbrevazione c p naturalmente vuol dire papir carta quanto alle lettere e gr un dizionario geografico ci informerà eiglo eiglowitz proseguì egli sfogliando rapidamente un enorme volume che aveva preso sulla sua etager eigra eccoci è un piccolo cantuccio della boemia una città tedesca a qualche lega da karlsbad è là che morì wallenstein vi sono importanti vetrerie e cartiere ebbene mio caro è proprio così ci siamo questa carta fu fabbricata in boemia chiesi per l'appunto e l'autore di questa lettera è un tedesco osservate un po la costruzione bizzarra di questa frase una simile missione io tengo ad affidarvi un francese o un russo non avrebbero mai scritto così sono i tedeschi soltanto che in tal modo adoperano i verbi più non ci rimane ora scoprire che ciò che vuole questo tedesco il quale scrive con carta di boemia e porta una maschera eccolo se non mi inganno di fatti una vettura si arrestava allora dinanzi la porta una forte scampanellata e che già holmes si era avvicinato alla finestra e zuffolando guardava l'equipaggio del suo visitatore per vinci disse un bel coupé e dei superbi cavalli a 10.000 lire il paio lo scommetterei watson caro mio il nostro incognito è ricco eccone una nuova prova vi lascio disse alzandomi no dottore restate ove siete desidero avervi qui la cosa promette essere piccante e sarebbe peccato perdere così bella occasione ma il vostro cliente a ciò poco mi importa posso del resto aver bisogno di voi ed egli pure sentite egli sale rimanete e osservate lo straniero saliva la scala con passo grave si era arrestato sulla soglia picchiò due volte imperiosamente entrate gridò holmes e la porta girando sopra se stessa lasciò passare un uomo mascherato di portamento altero alto sei piedi indossava un'ampia pelliccia di panno marron e ornata di astracan alle maniche e al collo dalle spalle gli scendeva un mantello bleu cupo foderato di seta rossa e trattenuto soltanto da un enorme agraf di turchesi teneva in mano un feltro molle alti stivali guerniti di pelliccia completavano quel sontuoso abbigliamento un po bizzarro riceveste la mia lettera disse con accento tedesco molto pronunciato vi avevo annunciato la mia visita di fatti signore vi prego di sedere disse holmes avvicinando un seggiolone vi presento l'amico mio e collega watson che suole assistermi nei miei studi ma a chi ho l'onore di parlare al conte von cram gentiluomo boemo questo signore voi dite è vostro amico quindi posso calcolare sull'assoluta segretezza la cosa che qui mi conduce è della più alta importanza e preferirei intrattenervene solo se come mi alzavo per uscire holmes mi trattenne per la mano e mi costrinse a risedermi non temete disse potete dire dinanzi al mio amico tutto quanto vorrete bene rispose il conte stringendosi nelle spalle signori debbo anzitutto chiedervi la vostra parola di nulla rivelare prima di due anni su quanto sono per dirvi dietro un cenno affermativo da parte nostra il conte proseguì l'augusto personaggio che per mezzo mio a voi si rivolge desidera vedermi conservare l'incognito e vi confesserò che il titolo sotto il quale mi sono presentato a voi non è il mio lo sapevo interruppe holmes semplicemente la situazione è delicata l'onore ed una delle più antiche case reali d'europa è in giuoco e la menoma imprudenza potrebbe provocare uno scandalo disgustoso qui si tratta del nome della famiglia dormstein erede legittima del trono di boemia io pure lo sapevo mormorò l'amico mio sprofondandosi nel suo seggiolone con gli occhi socchiusi tutto ai suoi pensieri lo sconosciuto pareva considerare con alquanta sorpresa il volto impassibile di colui che gli era stato descritto come uno degli uomini più energici e più chiaroveggenti d'europa holmes ora lo scrutava alla sua volta se vostra maestà disse a un tratto degnasse espormi lo scopo della sua visita a tali parole lo sconosciuto si alzò bruscamente a gran passi in preda a viva agitazione percorse la stanza poi violentemente si strappò la maschera la gettò ai piedi di holmes ebbene sì avete ragione esclamò perché dissimulare più a lungo difatti perché rispose holmes appena apriste la bocca riconobbi in voi sua maestà guglielmo gotreich sigismondo von ormstein granduca di castle fellstein re di boemia comprenderete rispose il principe risedendosi comprenderete dico che non avrei tentato io stesso questa impresa presso di voi se la gravità stessa della situazione non mi vi avesse costretto eccovi brevemente i fatti orson circa cinque anni durante un viaggio a varsavia feci conoscenza con un'avventuriera di vaglia irene adler questo nome non vi è però forse sconosciuto dottore mormorò holmes abbiate la bontà di consultare le mie annotazioni da molti anni l'amico mio aveva l'abitudine di raccogliere giorno per giorno tutti i documenti che concernevano uomini e avvenimenti importanti che egli accuratamente classificava possedeva di ogni personalità di ogni questione plichi completi in pochi minuti io aveva trovata la biografia di irene adler schizzata tra quella di un rabbino e quella di un ufficiale di marina celebre per un lavoro sulla fauna dell'oceano pacifico leggiamo disse holmes irene adler nata a new york nel 1857 voce di contralto alla scala prima donna all'opera di varsavia sì è questa abbandona la scena e si ritira a londra ci siamo vostra maestà a quanto posso vedere si lasciò avvincere dai vezi dell'ammagliatrice e scrisse senza dubbio talune lettere compromettenti che sua maestà desidera farsi restituire pardon se sono indiscreto esisterebbe un matrimonio segreto o semplicemente una promessa scritta no nulla allora più non comprendo se questa persona per scopo di vendetta vuole pubblicare quelle lettere in qual modo ne dimostrerà l'autenticità ma dallo scritto dallo stemma sulla carta e dal mio sigillo stoltamente apposto sotto ogni viglietto e le mie fotografie questo nulla conta la scrittura potreste dire fu abilmente imitata la carta mi fu portata via il sigillo copiato le fotografie comperate nulla di più semplice sì ma su talune fotografie siamo uniti ella e dio o la cosa si complica l'imprudenza fu grande sì era pazzo quel giorno non era ancora che cron prince e tanto giovane bisogna riaverlo ad ogni costo quel ritratto comperarlo carpirlo se occorre o tutto fu tentato in vano ella non vuol cederlo per nulla al mondo le fece offrire delle somme considerevoli per tre volte si tentò rapirglielo due volte dei malfattori pagati le hanno spogliata la casa un giorno perfino le feci rubare i suoi bauli mentre essa viaggiava nulla abbiamo trovato neppure il mio nuovo indizio nessun ritratto nulla il problema diventa interessante disse holmes con un sorriso interessante per voi forse interruppe aspramente il principe ma per me la cosa è seria perché irene adler vuole semplicemente disonorarmi spezzare il mio avvenire disonorarvi sì sono in procinto di ammogliarmi sono fidanzato a clotid dell'otma di sax ed alzburg seconda figlia del re di scandinavia vi sono noti i principi di quella famiglia la principessa stessa è di una austerità estrema e il menomo dubbio il menomo sospetto sul mio passato trascinerebbe a una rottura immediata che vuole dunque fare irene mi minaccia di mandar loro quella fotografia e lo farà potete esserne certo voi non la conoscete è la più bella delle donne con una volontà degna dell'uomo più risoluto piuttosto che vedermi sposare un'altra donna non retrocederà dinanzi a nessun tentativo a nessuno siete sicuro che ancora ella non l'abbia inviato ne sono sicuro mi scrisse che lo farebbe il giorno in cui verrebbe proclamato pubblicamente il fidanzamento ora questo avverrà lunedì lunedì tutto va bene allora noi abbiamo tre giorni interi innanzi a noi esclamò holmes alzandosi a proposito vostra maestà conta rimanere a londra qualche tempo ancora sì sono disceso al langham hotel sotto il nome di conte von cram va bene vi scriverò ora in quanto si riferisce alle spese vi lascio carta bianca darei volentieri la più bella delle mie province per riavere quel maledetto ritratto il re si tolse dalla cintura una pesante borsa di cuoio e gettandola sul tavolo ecco 500 lire sterline in oro disse e il doppio in banknotes serviranno per le prime spese holmes strappò un foglietto del suo carnet vi fece la ricevuta e la porse al principe l'indirizzo della signorina chiese brioni lodge viale serpentin saint john's wood una parola ancora che formato ha la fotografia formato album benissimo disse holmes scarabocchiando in fretta sul margine del suo carnet alcune indicazioni mentre il re lasciava l'appartamento watson egli soggiunse appena udimmo che la vettura reale scompariva fra la notte buonasera a domani venite a trovarmi qui alle tre avrò piacere di intrattenermi con voi su quest'affare capitolo 2 l'indomani allora fissata io era in casa di holmes il signore non è ritornato ancora mi disse il suo domestico è uscito da questa mattina mi si detti vicino al caminetto ben deciso ad aspettarlo per quanto lunga dovesse essere la di lui assenza mi interessavo vivamente a quell'affare quel diavolo d'uomo aveva una così straordinaria potenza di deduzione di facoltà meravigliose che mio malgrado mi appassionavo nelle sue ricerche in cui spiegava astuzie tanto ingegnose tanto audaci erano quasi le quattro quando la porta della stanza si aprì bruscamente e vidi comparire un palafreniere che con le mani in saccoccia una corta pipa in bocca entrò zufolando i suoi abiti erano alquanto sucidi e il suo cappello non brillava di freschezza quantunque da molto tempo abituato quei travestimenti dovetti guardare per tre volte il nuovo arrivato prima di riconoscere il mio amico holmes in quel groom poco accurato egli mi fe un cenno col capo e sparve nel suo gabinetto cinque minuti dopo ne usciva ritornato nel suo stato normale corretto di reprensibile gentleman davvero la cosa si fa interessantissima disse gettandosi in un seggiolone e scoppiando in grandi risate no in vita mia non mi sono mai tanto divertito e siccome non comprendendo quella ilarità io lo interrogavo vengo dall'aver fatta una piccola inchiesta sulla nostra avventuriera e in fede mia non ne sono malcontento questa mattina prima delle otto sono uscito travestito come vedeste da palafreniere senza lavoro non vedi meglio per apprendere ciò che si vuol sapere che il frammischiarsi alla gente di scuderia esiste fra loro come una lega fra massonica e per un fratello nell'impiccio hanno tesori di indiscretezza mi fu facile trovare brioni lodge la villa è stupenda due piani con facciata sulla via e un gran giardino dietro a destra della porta una gran sala riccamente ammobiliata con alte finestre che arrivano fino al suolo ma che si chiudono male però come tutte le finestre inglesi tolto questo nulla dissaliente se non che si può entrare nella casa dalla finestra che dà sulla rimessa ne conosco tutti i ripostigli già perché la esaminai da vicino poi gironzai nella via come m'attendevo scopri una scuderia in un vicolo che fiancheggia il giardino legai conversazione coi cocchieri gli aiutai a strigliare i cavalli e ricevetti per il mio disturbo quattro soldi un bicchiere di cognac e due pipe di cattivo tabacco in cambio apprese un'infinità di cose curiose sulla nostra irene è vero che dovetti assorbirmi la biografia di cinque o sei imbecilli del vicinato dei quali conosco ora tutti i difetti e irene adler o ella ha fatto girare tutte le teste della parrocchia è realmente la più bella creatura che si possa immaginare almeno lo si dice là in quelle vicinanze vive molto ritirata canta nei concerti e fa ogni giorno una passeggiata in vettura dalle cinque alle sette esce raramente di sera non le si conosce che un amico ma le è fedele pare e si mostra molto assiduo è bruno grande e molto generoso viene ogni giorno una volta almeno raramente due lo si chiama goffredo norton e lo si dice avvocato vedete che vantaggi ci sono nel frequentare i cocchieri l'avvocato si è fatto condurre dalla bella signora dieci o dodici volte forse e di già si conosce tutta la sua storia munito di queste indicazioni sono partito e camminando ruminai il mio piano di campagna quel goffredo norton dicevo fra me deve rappresentare una parte importante è un avvocato la cosa è di cattivo augurio quali possono essere le sue relazioni con irene se non le è che amico può benissimo avere ricevuto in deposito il famoso ritratto se le è più che amico quel deposito non gli fu certo fatto l'orizzonte si allargava singolarmente ma tutti questi dettagli necessari per comprendere ciò che deve seguire vi annoiano forse watson e no assolutamente esclamai vi ascolto era dunque a questo punto delle mie riflessioni sempre indeciso quando di repente una vettura mi passò vicino e si fermò dinanzi alla villa un uomo in fretta discese era molto bruno di bellissimo aspetto doveva essere quello il mio personaggio gridò al cocchiere di aspettarlo e rapidamente salì i gradini della scalinata la porta parve aprirsi spontaneamente innanzi a lui dalla strada io lo vedevo passare e ripassare dietro le finestre del salotto camminando a grandi passi gesticolando molto eccitato quanto a lei non potei neppure intravederla dopo una mezz'ora egli uscì come un lampo saltò nella vettura consultò l'orologio e gridò al cocchiere a briglia sciolta da gross anche in regent street poi alla chiesa saint monique it where road non abbiamo che venticinque minuti una mezza sovrana per voi se giungete a tempo il cocchiere sferzò vigorosamente la sua bestia che partì a gran trotto mi domandavo ciò che mi rimaneva allora da fare quando vedi un landau lo stesso che avevo aiutato a pulire qualche istante prima sbucare da una stradicciuola vicina e venire a esso pure ad arrestarsi dinanzi alla villa irene adler a sua volta scese frettolosamente i gradini della scalinata e saltando in vettura gettò queste parole al cocchiere john alla chiesa saint monique una buona mancia se correte l'occasione era bella un cab passava in quel momento stesso chiamai l'auto medonte e io pure gli promisi una mezza sovrana se in venti minuti mi conduceva alla chiesa indicata l'uomo sulle prime esitò il mio aspetto forse non lo persuadeva troppo indi partì come una freccia però quando giunsi alla chiesa il landau e la vettura del visitatore di rene già stazionavano sul portone del tempio pagai la mia corsa ed entrai nel sacro luogo soli a piede dell'altare maggiore i miei due personaggi discutevano con un chierico vestito di un camice bianco compresi erano le 11 e 55 e si trattava di concludere il matrimonio prima che mezzodì fosse suonato mentre fiancheggiando il muro mi avanzavo non curante nella chiesa da persona indifferente mi vidi a un tratto venire incontro godfrey norton oh grazie al cielo mi disse prendendomi pel braccio siamo salvi venite presto che c'è chiesi venite presto o non sarà legale e tirato per la mano spinto a piede all'altare mi trovai in breve mormorando le risposte matrimoniali che mi venivano suggerite in qualità di testimonio alle nozze reali di rene adler figlia maggiorenne e di godfrey norton celibe questo durò dieci minuti appena lo sposo mi ringraziò irene mi sorrise il prete mi impartì la sua benedizione vera di certo in tutto quell'affare qualche vizio di forma e il prete aveva rifiutato di unire i due fidanzati se un testimonio legale non veniva presentato io aveva salvato la situazione per il mio disturbo riceventi una sovrana dai novelli sposi farò montare quella moneta in uno spillo da cravatta e poi chiesi in fede mia il mio piano di campagna si trovava molto compromesso temevo vedere gli sposi partirse insieme che fare allora fortunatamente alla porta della chiesa si separarono godfrey se ne ritornò a casa sua e rene a brion di lodge ella lasciandolo gli aveva detto a hyde park questa sera dalle 5 alle 7 e voi contate mangiar prima un pezzo di manzo e prendere un bicchiere di birra disse premendo il campanello fui talmente occupato che non potei trovare il tempo di ristorarmi a proposito dottore se vi chiedessi di accompagnarmi questa sera temete i subbugli no affatto e al bisogno a consentireste di passare una notte in polizia sono vostro ma che debbo fare ecco egli riprese divorando i cibi che gli erano stati portati miss irene o meglio madama irene ritorna questa sera in casa sua alle 7 noi la precederemo a brioni lodge ho tutto preparato per un colpo decisivo tutto quanto vi raccomando è di non immischiarvi in nulla qualunque cosa avvenga dovete rimanere assolutamente neutro se sentite delle grida o delle bastonate non curatevi cercherò entrare nella villa e vedrete in qual modo dopo 5 o 6 minuti verranno aperte le finestre del salotto voi mi vedrete e vi avvicinerete poi quando alzerò la mano lancerete questo fuoco artificiale nella stanza gridando al fuoco al fuoco mi capite bene non è vero del resto nessun pericolo quel fuoco artificiale cadendo sul tappeto si infiammerà e produrrà più fumo che male quando voi griderete tutti attorno a voi grideranno egualmente voi vi allontanerete subito dal luogo del sinistro e dieci minuti dopo io vi raggiungerò mi comprendete perfettamente calcolate su di me ora egli disse alzandosi vado a vestirmi sparve nella sua stanza da letto e ne uscì poco dopo sotto gli abiti di un venerabile clergyman portava un cappello a larghi bordi dai calzoni larghi e una cravatta bianca aveva dato al suo viso un'espressione beata e caritatevole e le labbra avevano assunto il sorriso benigno del prete che commediante era quell'uomo qualche minuto prima delle sette noi sboccavamo nella serpentine veniu annottava già e si stava accendendo i fanali dinanzi alla villa degli nomini cenciosi ciarlavano e fumavano in un angolo un arrotino appostato non lungi dalla villa arruotava asseduamente coltelli e forbici mentre alcuni soldati ed altri passeggeri con lo zigaro in bocca aspiravano tranquillamente l'aria della sera vedete mi disse holmes quel matrimonio semplifica singolarmente le cose il ritratto diviene ora un'arma a doppio taglio dobbiamo figurarci che Irene tema tanto di vederlo cadere fra le mani del marito quanto il re teme di vederlo inviare alla di lui fidanzata tutto sta ora nel sapere ove ella lo nasconda c'è a scommettere molto che non lo porti con sé è troppo grande e difficile acelarsi ma ove può allora rinchiuderlo dal suo banchiere o dal suo avvocato forse però questo mi stupirebbe le donne amano troppo il mistero servano volentieri un segreto almeno quando questo è di loro ma come lo scoprirete due volte già dei malfattori pagati hanno perquisita la casa e l'hanno in vano cercato non lo cercherò costringerò è la stessa a mostrarmi ove lo nascose zitto eccola che ritorna un landau sbucava dall'angolo della via mentre si arrestava dinanzi alla villa un mendicante si avvicinò frattolosamente alla vettura nell'intenzione di voler aprire la portiera ma un altro aveva avuto la medesima idea e ambe due si spingevano uno con l'altro per raggiungere ciascuno il loro intento le imprecazioni e le busse piovevano come grandine i soldati l'arrottino presero parte anch'esse la mischia e in un istante irene che scendeva dalla vettura si trovò attorniata da 12 o 14 individui molto eccitati e schiamazzanti con tutta la forza dei loro polmoni in quel momento holmes si slanciò aprì la folla per offrire il suo braccio alla giovane signora ma di ripente egli mandò un grido e cadde gravemente al suolo col volto grondante di sangue soldati e mendicanti vedendo cadere l'amico mio sparvero in fretta mentre taluni curiosi indifferenti meglio vestiti di questi si accostavano al pseudo clergyman quanto a irene liberatasi da quella confusione in fretta aveva salita la gradinata la graziosa sua personcina si staccava ora sulla viva luce della hall quel povero clergyman si fece molto male chiese è morto ridò una voce no no vive ancora dissero altre voci ma se non si fa presto è al cimitero e non all'ospitale che si dovrà condurlo è un buon uomo esclamò una comare voleva proteggere la signora contro una compagnia di ladri essi fuggirono intanto i miserabili ma non può rimanere così in mezzo alla strada quel povero vecchio signora possiamo trasportarlo in casa vostra certo disse vivamente irene adagiatelo sul sofà del salotto venite da questa parte vi prego e con mille precauzioni holmes fu trasportato nella stanza e adagiato sul canapè io mi avvicinai alla finestra e togliendomi di saccoccia il fuoco artificiale attesi il segnale convenuto video sul sofà che si agitava penosamente come un uomo oppresso che ha bisogno d'aria una domestica corse alla finestra e la spalancò nel momento stesso holmes alzò le braccia io gettai il fuoco artificiale nel salotto gridando al fuoco altre persone fecero coro curiosi e gente di servizio un denso fumo colmò tutto ad un tratto l'ambiente vidi degli uomini fuggire poi udì holmes grider loro che era un falso allarme e che non vi era pericolo alcuno dal canto mio mero eclissato allo svolto della strada holmes m'aveva raggiunto bravo dottore disse dopo qualche istante bravo non si poteva agir meglio riuscita completa avete il ritratto no ma so dove si trova come lo sapete è la stessa mendicò il luogo dove lo nasconde inutile di prolungare il mistero non è vero tutti formavano parte del complotto lo avrete indovinato quei mendicanti erano pagati da me come quei soldati amabilmente travestiti quando la disputa scoppiò io mi sono sporcato il viso con un po di vermiglio che avevo in mano sono caduto e fui creduto morto è una vecchia astuzia mio caro quando una donna crede che la sua casa sia in fiamme il suo primo impulso è di correre verso ciò che ha di più caro è cosa più forte di lei e in più di un caso usai di questa germinella una donna maritata correrà alla culla del figlio una vedova sui suoi gioielli o sulle sue lettere come lo immaginavo irene nulla al mondo di più prezioso di quel ritratto che noi tanto annelliamo di possedere ella doveva forzatamente correre a salvarlo lo stratagemma del fuoco è riuscito a meraviglia il fumo il rumore tutto ciò la spaventò il ritratto è in un piccolo ripostiglio dietro un quadro a destra del caminetto la vidi frugare là allorché le appresi che tutto ciò non era che un falso allarme ella lo riposa al suo posto guardò quella fiamma artificiale poi bruscamente abbandonò la stanza non l'ho più riveduta poi alla mia volta sono uscito non senza aver pensato un istante a impadronirmi del ritratto prima di andarmene ma il cocchiere era entrato e mi svegliava attentamente ed ora che contate di fare il nostro compito è per così dire compiuto andremo domani per tempo da questa bella in compagnia del re e di voi stesso se lo volete saremo introdotti nel salotto e quando irene scenderà per accogliere i suoi visitatori c'è a scommettere che non vi troverà nessuno una volta in potere del ritratto noi ce ne andremo in fretta dunque a domattina alle otto ella non sarà ancora alzata avremo il tempo di agire voa telegrafare al re eravamo giunti dinanzi alla porta di holmes mentre cercava le chiavi qualcuno ci passò vicino e gridò buonasera signor sherlock holmes vera molta gente nella strada ci fu impossibile riconoscere l'interlocutore strano esclamò holmes volgendosi parmi aver udito quella voce in qualche luogo è partita da quel giovanotto che corre laggiù in alster io però non lo conosco capitolo 3 avevo dormito quella notte a baker street e facevamo appunto la nostra prima colazione quando il re di boemia entrò a precipizio nella nostra stanza davvero l'avete gridò prendendo sherlock holmes per le spalle e guardandolo ansiosamente negli occhi non ancora ma avete qualche speranza ho qualche speranza allora venite sono molto impaziente di sapere qualche cosa ma bisogna prendere una vettura il mio cupè sta innanzi alla porta questo semplifica le cose disse holmes scendemmo e ci avviamo di nuovo verso brioni lodge sapete che Irene Adler è maritata chiese holmes maritata da quando da ieri è mai possibile e con chi con un avvocato di nome norton ma ella non può amarlo spero il contrario perché perché ciò risparmierebbe a vostra maestà una infinità di noie future se la signora ama il marito non può amare vostra maestà non può avere alcuna ragione di scompigliare i vostri piani è vero e però avrei molto bramato avesse appartenuto alla mia casta che regina sarebbe mai stata egli si immerse in un profondo silenzio dal quale non uscì se non quando la vettura entrò nella serpentine venue la porta di brioni lodge era aperta e una vecchietta stava sulla gradinata ci lanciò un'occhiata derisoria quando ci vide scendere di vettura il signor sherlock holmes credo chiese sì è questo il mio nome rispose l'amico mio il cui volto esprimeva lo stupore e la prensione la mia signora mi disse che calcolavo un po sulla vostra visita è partita questa mattina per il continente col treno delle 5 e 15 come sherlock holmes impalledì e retrocesse voi dite che la lasciò l'inghilterra per sempre e le carte chiese il re ansiosamente tutto è perduto ora vedremo holmes spingendo da un lato la domestica si slanciò nel salotto seguito dal re e da me i mobili erano tutti qua e là alla rinfusa in un grande disordine tutti i tiretti erano aperti come se la padrona di casa avesse voluto tutto svaligiare prima della sua fuga holmes corse verso il caminetto e introducendo la mano nel ripostiglio a lui noto ne tolsi una fotografia e una lettera la fotografia era quella di rene adler in toilette da ballo e la lettera indirizzata sherlock holmes portava questa indicazione da lasciar qui fino a reclamo il mio amico di suggello alla lettera e tutti e tre ci affrettamo a leggerne il contenuto era datata dalla notte precedente a mezzanotte eccola mio caro sherlock holmes bravo avete veramente agito assai bene mi lasciai abbindolare e fino al momento dell'allarme non ebbi alcun sospetto ma allora quando compresi d'essermi tradita incominciai a riflettere mi era stato indicato il nome vostro da qualche mese ed ero avvertita che se il re doveva impiegare un agente contro di me non saresti stato che voi mi ero procurata perfino il vostro indirizzo e malgrado tutto ciò voi riusciste a farmi rivelare ciò che volevate sapere bisogna confessare che era ben difficile il sospettare di un vecchio tanto amabile e cavalleresco ma voi non lo ignorate fui commediante anch'io abituata ai travestimenti ho più volte approfittato della libertà che concede dopo aver mandato il mio cocchiere a sorvegliarvi io salì in fretta nella mia stanza indossai i miei abiti maschili e ridiscesi nel momento in cui partivate vi ho seguito fino alla vostra porta e mebbi così la certezza che io aveva a che fare col celebre sherlock holmes con una bravata un po imprudente vi gridai buonasera e corsi da mio marito trovammo che la fuga era il miglior partito a prendersi di fronte alla persecuzione di un tale formidabile avversario di modo che voi troverete il nido vuoto quando vi passerete domattina quanto al vostro cliente potete tranquillizzarlo rapporto alla sua fotografia amo un uomo di lui migliore e ne sono amata che il re faccia ciò che desidera d'ora innanzi più non avrà a temere la vendetta di chi fece tanto soffrire non servo questa fotografia che per la mia sicurezza personale verso le imprese future di sua maestà gli lascio uno dei miei ritratti che forse avrà piacere di possedere e sono caro signore la vostra devotissima irene norton nata adler che donna o che donna esclamò il re di boemia quando ebbimo terminata la lettura di quella lettera non vi avevo detto quanto essa era ardita risoluta non sarebbe stata una vera regina dopo un momento di silenzio holmes riprese freddamente sono desolato maestà per non essere stato capace di terminare questo affare in modo soddisfacente bene all'opposto mio caro signore esclamò il re voi non potevate ottenere un miglior risultato sono assolutamente sicuro della di lei parola se fosse nel fuoco quella fotografia non potrebbe essere ora più sicura sono felice di udirlo sentite holmes ho assunto verso di voi un debito indimenticabile ditemi in quel modo io possa sdebitarmi questo anello vostra maestà o qualche cosa che mi procurerebbe un piacere più sensibile sarebbe quella fotografia il ritratto di rene e gli esclamò è vostro poiché lo desiderate vostra maestà non avrebbe potuto farmi un maggior piacere holmes prese congedo dal re con una riverenza e senza stringere la mano che gli stendeva il monarca partì subito pregandomi di accompagnarlo a casa sua ed ecco in qual modo un grande scandalo fu risparmiato alla corte di boemia e come i piani sottili di sherlock holmes furono scompigliati dallo spirito di una donna egli non aveva fino allora mai fatto gran caso della sagaccia femminile e se ne era spesso anzi deriso dopo questo fatto non è più così quando gli avviene di nominare irene adler egli non la indica che come la donna la donna la donna